ciao da mio pilates buongiorno a tutti con questo video vi invito alla lezione di oggi pomeriggio alle 4 a oggi è mercoledì 20 maggio oggi pomeriggio alle 4 in collaborazione con l'applicazione next door e in particolare a il quartiere da casa un'iniziativa proprio di questa applicazione dello staff di next door di vivere bene il quartiere durante la quarantena di rimanere uniti e io attraverso diciamo questo mezzo questo canale youtube estendo il quartiere dove vivo a voi e quindi possiamo rimanere ancora uniti e mi piacerebbe davvero conoscervi nel senso poter fare qualche lezione insieme a voi con qualcuno è già stato possibile e devo dire che è stata proprio una bella esperienza ecco conoscersi mettersi in contatto eccetera bene detto questo vi aspetto oggi pomeriggio alle 4 lezione base di matur pilates per qualcuno può essere un ripasso delle della base diciamo delle principi base della tecnica ovviamente sarà una lezione dove ci muoviamo infatti vi servirà il materassino possibilmente tenete a portata di mano un cuscino soffice dovesse servire per la cervicale e poi servono solo 45 minuti e voglia di fare attività fisica insieme per qualcun altro può essere un modo veramente diciamo di iniziare con questa nuova fase di ricomincio tutto sta ricominciando quindi ricominciamo dal pilates e ricominciamo con il movimento perché sicuramente ci dà la carica giusta per affrontare diciamo queste questa nuova sfida vi aspetto oggi pomeriggio alle 4 un abbraccio a tutti